Salve ragazzi, oggi prendiamo un altro carico, questa volta di zucchero Allora andiamo a prendere Buon viaggio Sentite il navigatore, si gira Intanto gli operai lavorano Speriamo, ecco, lo sapevo L'abbiamo scampata L'abbiamo scampata e si va a prendere questo carico di zucchero Mi raccomando, io non guardo Però voi guardate sempre, quando siete in macchina o in motorino Sia a destra che a sinistro Quando attraversate la strada a piedi Attenzione, rispettare i limiti di velocità Rallentiamo In città è difficile rispettare i limiti di velocità Cioè non è difficile, è che se li rispetti ci metti 4 ore Vai Meno male è una buona ripresa questo camion Come mi hanno fatto notare Un mio iscritto I camion di American Track non sono molto belli Sono più belli quelli di Euro Truck Abbiamo finito Sì abbiamo finito però fammi vedere dov'è Vediamo dov'è il camion Ecco, mamma mia là giù in fondo Scusate Ora prendiamo questo carico di zucchero E si parte No Perfetto Bene Insomma, non tanto bene Ora si, ci siamo Ora possiamo andare Come benzina ci siamo Riposo ci siamo Non credo che si consumerà tantissima benzina E portiamo questo carico di zucchero Penso Non so Non so A me piace girare con il navigatore Ah Mannaggia Vediamo un po' se ho fatto tanti danni No Meno male Il carico è a posto Vedete Ad andare Senza guardare Si fa queste cose Non fatelo mai nella vita reale Ora si può andare Spero che vi piaccia I gameplay col navigatore vocale Se non vi dovessero piacere Fatemelo sapere che non li faccio col navigatore vocale Io Io preferisco giocare comunque col navigatore vocale E' più realistico E come potete vedere E come avete visto anche nel gameplay scorso Il gioco è molto migliorato Che vi da anche Eventi improvvisi Imprevisti Penso che siano random Quindi dovete fare molta molta attenzione Alla guida Tenersi a destra Ora ci teniamo a destra Eeeh Tanto si deve andare avanti noi No perchè ho messo la freccia No perchè ho messo la freccia E' dopo che ho messo la freccia Cioè anzi no Non serve nemmeno Ora si va in autostrada Tenersi a sinistra Così Ci mettiamo a sinistra Perfetto Ok Ho tagliato un pochino eh E vabbè Eeeh Noi si sta andando avanti Si prosegue il nostro viaggio E stiamo per entrare nella Nell'autostrada Perfetto Spero che non si sentano rumori estremi strani Esterni Rumori esterni strani Macchine che passano Motorini Qui qualcuno ha fatto una brusca frenata Però non si è trovata la pioggia fortunatamente Stiamo superando i limiti Eeeh Il navigatore è anche un incentivo A rispettare i limiti di velocità Per chi li vuole Li vuole rispettare Io francamente Ve l'ho detto Voglio fare un gioco Molto realistico Eeeh Veritiero Anche se Come avete visto Non ho rispetto Non guardo a destra a sinistra L'unica cosa che non faccio nel gioco Poi cerco di fare Il più possibile Realismo Cercherò Cercherò Scusate Attenzione Rispettare i limiti di velocità Bene Attenzione Rispettare i limiti di velocità Rallentiamo Rallentiamo Se non ti scassa Il timpano Bene Questa è abbastanza una guida tranquilla Il traffico E' diminuito Nel gioco Prima ce n'era molto di più Anche senza mettere mod O roba del genere Eeeh E' già due viaggi Che non trovo Tantissima gente Boh Vabbè Vedremo di trovare Qualche bella mod Da inserire In Tutti e due i giochi Sia in Euro Truck Che in American Truck Anche perchè C'è da trovarli Perchè Con Il nuovo aggiornamento Le nuove Le mod Vecchie A volte Non funzionano O credo Sempre Non funzioni Non lo so Quelle che avevo Non Non funzionano Più su Euro Truck Il viaggio E' quasi giunto Mamma mia E' quasi giunto Al termine Ho rischiato di fare Un altro incidente Tenersi a sinistra Mancano pochissimi Istanti A sinistra Quindi Di qua Perfetto Con navigatore E' anche molto più semplice Guidare Guardare le strade Mettere la freccia L'ho messo un po' troppo presto Va bene qua E' uguale Perfetto Si esce Si leva la freccia Si rimette Voltiamo a destra Perfetto Perfetto Ah Bene Ho scoperto un'altra Ho scoperto la città di Oakland Rispettare Rispettare i limiti di velocità Rispettare A sinistra Fatemi sapere se tante volte Volete Volete anche un gameplay Su Sul multiplayer Anche se E' molto più No No Cioè Se volete un gameplay Aia L'ho presa troppo larga E' veloce E' veloce Mannaggia Tanto lo sapevo che facevo una frittata sulla fine Fammi passare Fammi passare Passo io Ok Ci siamo Arrivati Perfetto E' abbastanza Facile Come parcheggio Spero Piano Perfetto Arrivati E' anche questo viaggio è giunto al termine Senza particolari problemi Senza particolari problemi A parte con un incidentino Va bene Ok Bene Io Ora con questo video Vi do appuntamento al prossimo Spero che vi sia piaciuto Il gameplay Il viaggio E' Vi do appuntamento al prossimo video Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Condividete nei social con gli amici E' Ciao Al prossimo video Al prossimo video Grazie